Omar ha remato con la sua barca per un totale di 50 miglia negli ultimi 5 giorni e ha remato per la stessa distanza ogni giorno. Quante miglia ha remato Omar con la sua barca ogni giorno? Visualizziamo quello che sta succedendo. Omar ha percorso 50 miglia. Diciamo che questa retta rappresenta le 50 miglia che Omar ha percorso. Questa distanza totale qui è di 50 miglia e ci dicono che l'ha percorso in 5 giorni e che ogni giorno ha remato per la stessa quantità. Perciò queste 50 miglia sono la somma di tutto quello che ha percorso in 5 giorni. Quindi se vuoi sapere quanto ha percorso ogni giorno, in pratica devi dividere le 50 miglia in 5 parti uguali e la lunghezza di ciascuna di queste parti sarà la distanza che Omar ha percorso ogni giorno. Se lo visualizziamo abbiamo queste... in realtà non le ho fatte molto bene. Dovrebbero apparire un po' più uguali tra loro. Allora 1, 2, 3... no. Allora non sei obbligato a farlo, è solo per aiutarti a visualizzarlo. In pratica quello che vogliamo trovare è quanto vale una di queste distanze. E come puoi vedere dal nostro disegno si tratta solo di prendere le 50 miglia e dividerle in 5 parti uguali. Quindi prendiamo 50 e lo dividiamo per 5. Ok, 50 diviso 5 è uguale a 10. Se Omar ha percorso 50 miglia in 5 giorni e dividi per 5 ha percorso 10 miglia ogni giorno. Ok, abbiamo finito. Grazie. Grazie.